Federica Petagna è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello, lasciando tutti a bocca aperta dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Dopo aver concluso una relazione di otto anni con Alfonso Dapice, la ragazza ha deciso di vivere liberamente, senza le restrizioni imposte dalla gelosia del suo ex compagno. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Alfonso ha condiviso su Instagram una storia con il testo di una canzone di Geolier, lasciando intendere che le maschere stanno per cadere. Federica, durante le puntate di Uomini e Donne, ha dichiarato di non essere più innamorata di Alfonso e di voler conoscere meglio Stefano, un altro concorrente del programma. La partecipazione di Federica al Grande Fratello ha suscitato grande interesse, soprattutto per la vicinanza temporale con la fine della sua storia con Alfonso. La ragazza ha deciso di vivere una nuova esperienza senza vincoli, cercando di scoprire se c'è spazio per un nuovo amore nella sua vita. La reazione di Alfonso alla partecipazione di Federica al reality è stata enigmatica, lasciando intendere che potrebbero esserci rivelazioni in arrivo. Mentre la coppia sembra aver chiuso definitivamente, Federica si apre a nuove possibilità e nuove relazioni, pronta a vivere appieno questa nuova avventura.